camminare è la medicina per il buon umore camminare amateo è la cura e ti cura hai letto e ti cura tutti i giorni ma l'intervento bastardo lei così mi adula lo dico ancora bastardo durido bastardo così mi piace lì non potrai desiderare un giorno di festa perché lì sarà sempre festa tutto sarà sempre normale non ci sarà mai una cosa strana e se potesse scoprire cosa c'è al di là dall'altra parte io credo che l'uomo samargantico potrebbe essere intelligenza superiore magari stai esagerando sei ottimista tuo fratello tuo fratello ti tiene prigioniera in un mondo in un mondo incredibile in un mondo che non capisco tu invece sei un altro mondo bellissimo io stessimo insieme da tre anni qua non lo sai ma di là si mi devi credere gelife non importa se non l'aspettava non importa se è pieno di sex toys tenga sì ma io sono titubante quindi titubo ho capito quindi io che acqua dobbiamo usare l'acqua santa poi è il vostro gesto scaramantico samargantico il gesto samargantico è la stessa cosa e questa cosa è contro il discorso a rete unificate è visibile su ogni tv e cellulare ed anche su tutti gli altri elettrodomestici tostapane compresi qui sembra tutto bellissimo vedi ma non è bello ciò che è bello è bello ciò che è libero libertà di stampa libertà di parola libertà di cazzeggio mi piace ma non è bello ciò che è libero il discorso Grazie per la visione